Nasce da due cose fondamentali, alla mia passione per l'Africa, che ormai da 15 anni la seguo per la rivista Limes, e dal fatto che ogni volta che mi avvicinavo a parlare del ambasciatore Luca Attanasio, trovavo una persona diversa che voleva raccontarmi un pezzo della sua vita e raccontarmi un qualcosa di personale, sempre descrivendo questo ragazzo, definisco un ragazzo perché eravamo coetanei, come una persona davvero speciale, e quindi come un qualcosa che faceva del bene all'Italia e al Congo. Quindi una tragedia che ci riguarda in prima persona, soprattutto perché abbiamo perso una persona speciale. Dal punto di vista proprio veramente anche del giornalismo d'indagine, insomma, quali sono gli aspetti che ti hanno sorpreso, che hai scoperto? Ci sono tre inchieste in contemporanea, una delle Nazioni Unite, una della magistratura italiana e una della magistratura congolese. Le Nazioni Unite sono state eccezionali, hanno fatto i rilievi e poi hanno consegnato le prove alla magistratura italiana dicendo arrangiatevi. La magistratura italiana ha inviato i carabinieri in Congo, ma non vi potete immaginare quello che possono fare quattro carabinieri, per i bravi che siano in Congo. E la magistratura congolese, dalle mie fonti di giornalisti locali, verrà insabbiata il prima possibile. Poi è una magistratura militare, quindi al soldo del governo. Credo che non verrà fuori niente, credo che non sapremo mai cosa è successo quella mattina del 22 febbraio. Sarà uno dei tanti misteri dell'Italia, anche se è successo fuori dal nostro paese, ma resta un mistero che macchia, secondo me, la nostra diplomazia. Perché vale la pena arrivare all'ultima pagina, allora? Vale la pena, secondo me, perché c'è un bel affresco di cosa significa il Congo per l'Africa, cosa significa l'Africa per noi. Ci fa capire quanto sia importante la diplomazia, ci fa capire quanto sia importante lavorare per il bene del prossimo in difficoltà, come la popolazione congolese, sempre rappresentando l'Italia con enorme dignità e con un'istituzionalità che non faceva pesare a Tanasio, ma che aveva rimarcata nei gesti più semplici. Ormai la pandemia ci ha abituato anche a leggere libri in un'altra maniera, anche se io preferisco sempre quella tradizionale, però insomma questa è una versione solo tradizionale o c'è anche l'e-book? C'è tutto, abbiamo l'e-book che è uscito una settimana prima il 17 maggio, poi è uscito il cartaceo il 27 maggio, quindi siamo completissimi, siamo moderni, anch'io amo avere la carta nelle mani, però sì, chiunque volesse può trovare tutte le versioni possibili e immaginabili.